Nell'ambito del dispositivo di contrasto dell'abusivismo commerciale disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano hanno individuato due autocarrozzerie site nel quartiere di Passo di Rigano che operavano senza alcuna autorizzazione prevista dalla legge. In particolare le fiamme gialle nel corso del primo controllo hanno rilevato che il titolare svolgeva l'attività di autoriparazione in forma totalmente abusiva e pertanto hanno proceduto a sottoporre a sequestro cautelare amministrativo il locale nonché le attrezzature e i macchinari da lavoro utilizzati. Lo stesso è stato segnalato alla locale Camera di Commercio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative per un importo di oltre 5.000 euro. Nel secondo controllo i finanzieri unitamente a personale dell'ARPA hanno accertato un'analoga violazione amministrativa. Inoltre durante l'ispezione degli impianti adibiti alle lavorazioni con emissione in atmosfera il personale tecnico intervenuto avrebbe accertato una modifica sostanziale del sistema di abbattimento e filtraggio fumi derivanti dall'attività di riparazione di autocarrozzeria senza l'autorizzazione prevista dal testo unico ambientale. Pertanto il responsabile è stato denunciato per le ipotesi di reato in materia ambientale concernenti l'emissione in atmosfera delle polveri e per reati concernenti l'incolumità pubblica. Contestualmente è stato segnalato alla Camera di Commercio per le violazioni amministrative per l'irrogazione delle relative sanzioni per un importo di oltre 5.000 euro. Il locale e le attrezzature anche in questo caso sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Infine durante il controllo i militari operanti hanno constatato nel locale la presenza di due lavoratori di cui uno presunto in debito per settore di reddito di cittadinanza occupati senza la prevista comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Per tale ragione è stata inoltrata all'Inps la comunicazione per la revoca del beneficio e il titolare dell'attività è stato sanzionato con l'applicazione della cosiddetta maxisanzione che varia da un minimo di 1.800 euro ad un massimo di 10.800 euro per lavoratore.